La nostra terra è la nostra storia. Abbiamo iniziato lavorando i campi e da lì ancora oggi parte la nostra filiera completa delle uova. Tutto comincia dalla coltivazione dei cereali, che portiamo in lavorazione nel mangimificio interno. Qui selezioniamo e misceliamo le materie prime, con competenza e sistemi computerizzati. Produciamo così mangemi vegetali, sicuri e controllati, per nutrire i nostri animali in modo sano e bilanciato. Nel verde delle colline romagnole, tutti gli allevamenti sono vicini al centro di lavorazione, per una filiera corta e sostenibile. Sono strutture moderne, con tecnologie avanzate, per gestire i parametri ambientali in modo ottimale, in ogni fase di crescita degli animali. Da quando sono pulcini di un giorno, fino alla piena maturità di ovaiole, seguiamo le nostre galline con cura e controlli veterinari costanti, rispettando i principi del benessere animale. Perché dalla qualità della vita delle galline dipende la bontà stessa delle nostre uova, che raccogliamo ogni giorno con sistemi meccanizzati e operatori specializzati. Delicatezza, igiene ed efficienza caratterizzano ogni passaggio, per preservare al meglio le uova, fino al centro di lavorazione. La macchina selezionatrice controlla a questo punto ogni uovo, rilevando anche le minime imperfezioni grazie al Crack Detector, e suddivide i prodotti in base al peso. Le uova selezionate vengono marcate con il codice di tracciabilità sul guscio, e confezionate nel centro di imballaggio, dove privilegiamo i pack in polpa di legno, 100% riciclabili. Gestiamo direttamente anche la distribuzione con automezzi di proprietà, per consegnare le nostre uova entro 24 ore dalla raccolta. Perché la freschezza non può aspettare. Sabatani, dal 1948, il valore di una filiera unica.